Bellissimo, un sogno che tutti vorrebbero vivere nella loro vita, Sidecar numero 20. Un pezzo di storia, qualcuno li chiama pezzi di ferro, ma sono dei pezzi di ferro con l'anima e chi ci tiene, chi ci crede veramente non fa altro che vivere ogni giorno pure emozioni. E loro sono Bianchi Norberto e Bianchi Milena, direttamente dalla Svizzera, facciamo un applauso. Welcome, welcome to Gravina in Puglia, bienvenue, welcome here in Gravina.